120.000 euro per sostenere le malattie infettive, la reanimazione e la terapia intensiva del San Donato di Arezzo arrivano direttamente dal Calcit, interamente devoluti al nosocomio aretino per contrastare l'emergenza coronavirus. La raccolta fondi destinata all'acquisto di attrezzature mediche, beni di prima necessità e materiale di protezione individuale per gli operatori sanitari del territorio è stata organizzata dal consulente finanziario Loredana Nencetti in collaborazione proprio con il Calcit. Quando ho creato questa raccolta fondi, racconta appunto la promotrice, sapevo che avrei trovato il sostegno in molti ma vederlo concretamente mi commuove e mostra quanta umanità e solidarietà ci sia nella nostra città. Oggi più che mai penso che ce la faremo a superare tutto questo perché siamo davvero uniti. Privati, professionisti, aziende e imprenditori hanno fatto tanto e continuano a farlo per sostenere l'iniziativa una dimostrazione che il senso civico e di comunità negli aretini è forte e vivo. Per chi non ha ancora donato ma desidera farlo, potete effettuare un versamento sul conto corrente intestato al Calcit con causale donazione per Covid-19, reparto malattie infettive e reanimazione dell'ospedale San Donato. Grazie a tutti.